Amici soft e libero open source, benvenuti o bentornati in questa 140esima puntata del podcast di Marcos Box. Sì, lo so, ho fatto passare un'altra volta due settimane. Sono irrecuperabile. Lo so, lo so, ho fatto passare più di due settimane dalla scorsa puntata del podcast di Marcos Box. Non me ne vogliate, ma sapete com'è la politica di questo podcast, ovvero quella di pubblicare una puntata quando serve. È inutile che vi faccia una puntata solo per commentare due notizie in croce. Quindi lo faccio per voi, non lo faccio per me, non è colpa mia, lo faccio per voi. Questa è la giustificazione. Prima di passare agli argomenti di questa puntata, fatemi raccontare quello che sta succedendo al sottoscritto su Linux. Vi aggiorno, vi aggiorno nel caso non seguiate il canale Telegram. Ho avuto la felice idea, qualche giorno fa, di piegare KDM subito dopo il rilascio delle versioni 5.27 e di tornare a GNOME. L'ho fatto su Endeavor OS, che è la distribuzione che sto utilizzando ormai da qualche mese in pianta stabile, che ha sostituito la mia cara Ubuntu e anche il mio caro KDN. Non li sto utilizzando più queste due distribuzioni, mi sono buttato su Endeavor OS. Perché utilizzo Endeavor OS? Perché voglio tutta la potenza di Arch, ma sono pigro e non voglio installarla seguendo il solito wiki, facendo copia e incolle e quant'altro. E quindi preferisco installare Endeavor che si installa con un installer grafico ha tutta quanta la potenza di Arch, quindi ha il supporto ai repository di Arch, ha il supporto ad Aura e in più c'ha quel repository dedicato di Endeavor OS che condiene giusto due o tre pacchetti in croce. Non è che chissà che cosa incoda. Però è comoda Endeavor OS, la consiglio a tutti quanti, quegli utenti che vogliono avvicinarsi ad Arch e non vogliono utilizzare Manjaro, quindi vogliono qualcosa di puro, quindi quando installano un desktop e variano non vogliono avere 50 miliardi di programmi preinstallati come accade con Manjaro e vogliono anche vivere on the edge, quindi vogliono vivere a large maniera, quindi aggiornare ogni giorno senza paura di fare casini e quant'altro. Perché i casini poi li fate voi in questo caso con Endeavor, con Arch in generale. Non è come con Manjaro che i casini li fa la distribuzione perché non è perfettamente allineata con Arch. Vabbè, comunque, fateci un sentito, fateci un pensierino, provatele questo Endeavor. Ti stavo dicendo, la sto provando io in questi giorni con Gnome, ovviamente litico come sempre con Gnome, perché devo mettere le mie solite estensioncine per poter avere, a meno gli indicatori, io non chiedo tanto, chiedo a meno gli indicatori, perché indicatori di terze parti che per me sono vitali. Voglio l'iconcina di Telegram che mi notifica quanti cavoli messaggi devo leggere e quant'altro, la voglio in alto, voglio, che ne so, Transmission se è in esecuzione, voglio Amuse se è in esecuzione, la voglio vedere l'iconcina qui. Perché voi sviluppatori di Gnome non avete messo gli indicatori di terze parti? Lo so, andatevi a recuperare i vecchi articoli sul blog di Marcosbox a riguardo dove ve ne parlo. Però sta cosa qua io continuo a non digerire questo default di Gnome. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ma passiamo alle notizie, dai. Apriamo le danze, apriamo questa puntata parlando del rilascio che c'è stato all'inizio mese di LibreOffice 7.5 Community. Questa nuova major release della famosa suite di produttività desktop Libre Open Source supportata dai volontari e compatibile per Windows, Mac OS, anche processori Apple e Linux, introduce una serie di novità che non vanno a stravolgere la suite, non vanno a dare chissà che cosa, però proseguono nel suo percorso step by step che la sta portando a rendersi sempre migliore. Le novità più significative, beh, la prima novità che salta subito all'occhio, almeno se utilizzate la versione Windows e la versione su Linux, se la utilizzate, che ne so, su Gnome, e utilizzate il tema standard ed il Glicone, è il nuovo tema di icone che abbiamo, che sbarca su LibreOffice 7.5. Devo dire la verità, mi fanno schifo, però questo è un gusto personale, preferivo le icone vecchie, però tante ci hanno lavorato, pensano che sia una cosa carina questo nuovo set di icone, però mi sa troppo di giocattoloso. Gli altri miglioramenti che ci sono stati riguardano miglioramenti al supporto alla modalità scura, lo Start Center adesso può filtrare i documenti per tipo, è stata implementata una versione migliore dell'interfaccia utente, quella alla single toolbar, l'esportazione di PDF è stata migliorata con diverse correzioni e nuove opzioni e funzionalità, c'è il supporto per l'embanding dei font su Mac OS, ci sono stati dei miglioramenti alla finestra di dialogo Font Features con diverse nuove opzioni, e poi è stata aggiunta di un cursore di zoom in basso a destra nell'editor delle macro. Ci sono poi delle novità specifiche che riguardano Writer, Calc, Impress e Draw, che potete andare a leggere nelle note di rilascio che ho pubblicato su Marcos Box. Voi utilizzate questa suite? Continuate ad utilizzare LibreOffice? O siete passati a qualche soluzione tipo OnlyOffice e quant'altro? Fatemi sapere nei commenti perché sono curioso di sapere quanta gente continua ad utilizzare LibreOffice, perché molti, come vi dicevo, sono migrati verso altri leader, altre soluzioni, perché magari hanno migliore compatibilità con i file di formati proprietari Microsoft Office, questo c'è da dire che OnlyOffice offre migliore compatibilità con i file Microsoft Office, e se siete, come me, costretti a lavorare con persone che producono i file sulle suite proprietari di Microsoft Office, beh, vi fa comodo avere la migliore compatibilità possibile. E LibreOffice spesso è carente, soprattutto con Calc, che io in passato ho fatto danni e tragedie. Restando in tema dei rilasci di applicativi, è stata rilasciata la versione 4.0.0 di Transmission, il famoso e apprezzato client with torrent open source multi piattaforma, che troviamo preinstallato su moltissime distribuzioni, soprattutto quelle che fanno utilizzo di GNOME come ambiente desktop predefinito. Questa nuova major release, che arriva dopo oltre un anno di sviluppo, offre nuove e interessanti novità, oltre che miglioramenti nel consumo delle risorse, il che non fa mai male. Vi dicevo, c'è un efficientamento nell'utilizzo delle risorse, perché adesso Transmission 4.0.0 utilizza meno memoria e meno cicli di CPU rispetto al passato. Perché? Perché il codice è stato migliorato, percorregge tutte le parti di codice inefficienti e migliorano quindi l'utilizzo della memoria. Questo è stato fatto anche grazie al fatto che è stato modernizzato il codice, praticamente hanno fatto una migrazione da C90C++, quindi l'intera base del codice è stata migliorata perché è stato riscritto completamente il software e nel processo sono state anche rimosse migliaia di righe di codice personalizzato e quindi a tutto beneficio ne è andato della velocità del software di Transmission. Un'altra nuova caratteristica che abbiamo poi su Transmission 4.0.0 riguarda il supporto per l'utilizzo di BitTorrent V2 e Torrent Ibridi. Quindi adesso c'è questo supporto. C'è poi il client web che è stato riscritto con supporto per l'utilizzo da mobile, il supporto alle liste di blocco IPV6 e miglioramenti della gestione dei tracker e dei seed. Come sempre vi ricordo che potete leggere tutte le novità di questa nuova versione di Transmission andando sull'articolo dedicato su Marcosbox dove ci sono le note di rilascio. Quindi se siete nerd e volete sapere tutto, tutto, tutto nei minimi particolari, li trovate pane per i vostri denti. Passiamo adesso a parlare dell'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium, ovvero Firefox. Mozilla il 14 febbraio, quindi in concomitanza con San Valentino, ha pubblicato il rilascio di Firefox 110.0. Questa nuova versione si concentra principalmente sul miglioramento delle prestazioni su tutti i sistemi operativi desktop supportati. Le principali novità che troviamo su Firefox 110 sono Adesso è possibile importare i segnalibili con OGE e password non solo da Edge, Chrome o Safari, ma anche da Opera, Opera GX e Vivaldi. Quindi se siete pentiti delle vostre scelte dopo aver provato Opera e Vivaldi, potete tornare a Firefox e potete importare tutto nella barra d'anno. Quindi potete farlo anche da lì. C'è stato poi aggiunto il supporto, la sandboxing della GPU, che è stato abilitato per impostazione predefinita su Microsoft Windows. Sempre su Windows è ora possibile bloccare l'iniezione di moduli di terza parte in Firefox, il che può essere utile se questi causano crash o comportamenti indesiderati. I campi poi di input di data, ora e ora locale possono essere cancellati con delle scorciatoie apposite, su Marcos Box ve l'ho postato tutte quante, su macOS, su Windows e su Linux. Abbiamo poi il canvas 2D accelerato dalla GPU, abilitato per impostazione predefinita su macOS e Linux, miglioramenti delle prestazioni di WebGL su Windows, macOS e Linux e infine abbiamo l'abilitazione della sovrapposizione di video decodificati via hardware con GPU, non Intel, su Windows 10 e Windows 11, che vanno quindi a migliorare le prestazioni di riproduzione e la qualità della scalatura dei video. Ovviamente poi è stato rilasciato anche nei giorni successivi l'aggiornamento della versione mobile di Firefox che in questo caso è andato ad aggiungere altre estensioni, quindi adesso possiamo abilitare altre estensioni su Firefox mobile. Non c'è ancora il traduttore purtroppo, che sarebbe, secondo me, la cosa da implementare subito, istantaneamente sulla versione mobile di Firefox, ma tante non penso che arriverà in tempi brevi. Sapete bene come funziona il traduttore di Firefox, ne ho parlato qualche, no, diverse puntate fa riguardante l'arrivo della funzione di traduzione automatica delle pagine su Firefox grazie al progetto Bergamot. Le traduzioni avvengono in locale, quindi viene sfruttata, viene scaricato una specie di dizionario sul computer e vi utilizza la traduzione offline in locale. E quindi penso che sia questo il motivo per il quale non viene ancora implementata la funzione di traduzione delle pagine sulla versione mobile per Android, perché sarà un casotto, secondo me, fare una cosa del genere anche su mobile. Però io ci confido sempre, confido sempre dei ragazzi di Firefox. date i dagli e dagli e dagli perché dobbiamo ritornare a essere sopra, almeno a Microsoft Edge, almeno quello. Passiamo adesso ai desktop environment. Sempre è il 14 di febbraio, perché è una giornata dell'amore, tutti quanti hanno deciso di aggiornare le proprie applicazioni, e anche i desktop environment in questo caso. La community di KDE, il 14 di febbraio, ha pubblicato il rilascio di Plasma 5.27, quella che è la nuova versione LTS di KDE Plasma, nonché l'ultima versione del ramo 5. KDE Plasma 5.27, essendo una versione con supporto a lungo termine, si concede principali su miglioramenti della stabilità, correzione di bug, e poi va a mettere alcune piccole novità, che di sicuro hanno fatto felice tutti quanti gli utenti KDE all'ascolto. La prima novità riguarda la nuova procedura guidata, basata su Conqui, che ci guiderà nella configurazione del desktop una volta installato. Altra importante novità, da molti attesa, riguarda un abbozzo di sistema di tagging delle finestre integrato in KWin. Non è intuitivo, è bruttino, però è qualcosa che hanno implementato, che molti aspettavano da tempo. Troviamo inoltre miglioramenti alle impostazioni di sistema di KDE, nuove funzionalità per KRunner, miglioramenti nel codice della gestione del multi-monitor, e infine dei miglioramenti vari nel pannello desktop. Trovate, come sempre, il changelog completo sull'articolo che è pubblicato sulle pagine di Marcosbox. E se siete su Endeavor, quindi se siete su Arch, e se siete su KDE Neon, avete già l'aggiornamento che vi è arrivato praticamente istantaneo. Anzi no, istantaneo è arrivato praticamente solo su KDE Neon, nello stesso giorno del re-arch. Su Endeavor è arrivato qualche giorno dopo. Che poi far l'altro, se vi interessa, ho appena letto sui profili social di KDE Neon, che è già arrivato su KDE Neon il primo minor update per KDE Plasma 5.27, quindi 5.27.1, che è già disponibile nei repository della distro. E passiamo adesso a parlare di redistribuzioni Linux, e parliamo di OpenSUSE. Il ramo stabile di OpenSUSE, ovvero OpenSUSE GRIP, è entrato nella fase di beta testing per la versione 15.5. Questa nuova versione offrirà agli utenti aggiornamenti del parco software, correzioni di bug, e alcune modifiche alle impostazioni di default della distro. OpenSUSE GRIP 15.5 offre un nuovo stack di driver MESA, il repository OpenH264, abilitato per impostazione predefinita su tutte le nuove installazioni. Lato kernel troviamo lo stesso kernel che veniva utilizzato su OpenSUSE GRIP 15.4, quindi abbiamo il kernel Linux 5.14.21. Per quanto riguarda il Dex Open Environment, gli utenti KDE potranno beneficiare di Plasma 5.27, l'ultima versione stabile di KDE Plasma, uscita qualche giorno fa di cui vi avevo parlato poc'anzi. Quindi, se siete appassionati di OpenSUSE, andate a testare. Testate, testate, testate. Questa beta è tutta per voi. Con somma tristezza, sia mia che di molti degli utenti all'ascolto, Luca ha pubblicato sulle pagine di Marcosbox le ultime due puntate della sua rubrica OpenSource Games. Le ultime due puntate hanno trattato due tipologie di gioco, una molto apprezzata da me, ovvero gli FPS, e l'altra riguardante anche i giochi casual, quelli che si vanno a fare quando uno ha qualche minutino, giusto per andare... Giochi super semplici nella grafica, però divertenti. Se avete avuto un deja vu, mentre vi sto parlando dei giochi casual, perché avevo già postato una puntata riguardante i giochi casual, non state sbagliando, perché si tratta di una puntata bonus sui giochi casual, la parte 2, che va a trattare tutti quei giochi che per un motivo o per l'altro ha trovato, cercando su internet, informazioni per tutti gli otticoli precedenti, ma che non erano state introdotte nella prima puntata dedicata ai giochi casual. Ringrazio Luca per questa sua serie di articoli che ho visto hanno appassionato molti di voi all'ascolto e speriamo che torni presto con qualche altra rubrica interessante, ma sono sicuro che si farà venire qualche altra idea. Luca è davvero in gampa. E concludiamo questa 140esima puntata con una notizia fresca fresca di stampa. Mentre vi sto registrando questa puntata il giorno 22 febbraio, è arrivata una notizia che di sicuro farà discutere e creerà polemica tra tutti quanti i detrattori di Ubuntu. Philip Kerwish, il community manager di Canonical, ha annunciato oggi un importante cambiamento nella politica di distribuzione del software sui freevos di Ubuntu. A partire da Ubuntu 23.04 Luna Lobster, i freevos ufficiali di Ubuntu non offriranno più il supporto a Flatpak per impostazione predefinita. Gli utenti intenzionati a utilizzare i pacchetti nel formato Flatpak potranno comunque continuare a farlo perché i pacchetti per abilitare il supporto a Flatpak sono comunque presenti nel riposito di DoraDisto ma dovranno compiere qualche step aggiuntivo quindi dovranno installare a mano il supporto a Flatpak aggiungersi Flatup e quant'altro configurarsi tutto. La decisione è stata presa in maniera congiunta dalla parte di tutti i freevos ufficiali e impatterà di fatto principalmente soltanto sui nuovi utenti che si avvicinano al Radistro e che potranno scegliere out of the box soltanto fra pacchetti in formato DEB dai repository del Radistro e pacchetti in formato SNAP che è il formato che Canonical sta cercando di propinare propinare il butto anzi come espressione sta cercando di spingere nel corso degli ultimi anni secondo FIGIP questo andrà a tutto vantaggio dell'esperienza utente out of the box per i nuovi utenti a mio avviso no perché di fatto chi si avvicina per apriamo a otto Ubuntu avrà solo quello di sicuro non si andrà a smanettare andrà a cercare altri metodi di installazione di pacchetti non andrà a cercarsi il reposito di FlatTab e quindi prenderà la pappa pronta che viene servita da Ubuntu e da tutti i freevos ufficiali c'erano i freevos ufficiali che se non ricordo male distribuirono pacchetti in formato Flat Pack erano Ubuntu Mate Xubuntu e mi sembra anche Ubuntu che offreva qualche cosina in formato Flat Pack quindi out of the box voi che cosa ne pensate di questa scelta da parte dei manutentori dei freevos di Ubuntu secondo voi è una scelta intelligente è una scelta saggia oppure è una cagata pazzesca fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento sulle pagine di Marcosbox ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 140esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguirmi su tutti quanti praticamente i social network mi trovate su Facebook Twitter YouTube mi trovate su LinkedIn mi trovate su Mastodont1 mi trovate soprattutto poi su Telegram dove sono ad attivo tre canali abbiamo la pagina Telegram ufficiale che potete utilizzare a modo di Feed Reader abbiamo la community di Telegram dove potete commentare notizie ma parlare anche di qualsiasi altro argomento che vi sta a cuore e poi abbiamo il canale Telegram dedicato all'offerta Amazon che potete utilizzare per supportare il blog quindi acquistando da uno dei prodotti del mio link referral che trovate anche sulle pagine di Marcosbox vi ricordo che potete anche supportare Marcosbox acquistando una VPN tra NordVPN, Surfshark e Atlas VPN trovate un bannerino sulle pagine di Marcosbox cliccandoci sopra accederete all'articolo nel quale vi parlo delle principali differenze tra queste VPN e trovate il link referral quindi se dovete rinnovare la vostra VPN o acquistare una una VPN fateci utilizzare il mio codice referral non vi proletto ricchi premi e quotidiani le stesse offerte che danno a me le danno anche a tutti quanti gli altri youtuber che propinano pubblicità su NordVPN ah poi ci tengo un'altra ci tengo prima di lasciarvi di ricordare un'altra cosa non ho parlato prima sono diventi scordato come si utilizza ho aggiornato i feed RSS del blog perché? perché è successo che FeedBurner il servizio di Google per la gestione dei feed che utilizzo da diversi anni su Marcosbox ha deciso nei ultimi mesi di fare i capricci e quindi di conseguenza ho dovuto fornire un feed quello classico quello che potete che si ricava direttamente alle pagine dei siti e potete utilizzare quello in sostituzione del feed di FeedBurner che utilizzavate prima su Marcosbox trovate un articolo a riguardo dove trovate il link per utilizzare questo feed spero di aver fatto cosa utile perché vedo che moltissimi di voi continuano a preferire questo sistema per poter seguire il blog lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riaggiorniamo spero la prossima settimana ma tanto so già che non manterrò la promessa sulle pagine di Marcos anzi non sulle pagine sulle su come si dice sulle pagine sulle frequenze non sono frequenze perché non è in radio vabbè mi trovate su web sui vari podcast sui servizi podcast ciao ciao